Ok, racconta! Ciao, sono Vivegna de las Bravas e adesso siamo a Soma Lombardo, Pino Domenica e qua stiamo cucinando una paella mixta. Paella con pesce e carne. Tra 5 minuti sarà pronta, poi abbiamo anche altre specialità come le patate bravas e facciamo anche una buonissima sangria e portiamo anche del vino spagnolo. Passate a provarci!